Gliel'abbiamo scritto noi l'emendamento, Chiosa Sorgnone Luigi Brugnaro, ma è l'unico commento che si lascia sfuggire sulla tassa di sbarco per Venezia, introdotta dalla manovra finanziaria approvata in Senato. Ma fino a che non diventa legge? Sulla tassa di sbarco dobbiamo parlarne quando abbiamo la decisione del Parlamento, per cui per rispetto al Parlamento e anche per non dire cose che non ha senso dire, aspettiamo di vedere che sia finito l'iter della finanziaria, dopodiché ci esprimiamo, raccontiamo, discutiamo eccetera eccetera, passiamo ad altro. Un obolo che è interconnesso con le politiche per la gestione dei flussi turistici in città e in conferenza stampa di fine anno, ineluttabile farne riferimento. Abbiamo fatto per esempio le priority, le entrate prioritarie sui battelli, sembrava una sciocchezza, mi hanno anche preso in giro su questa cosa, all'inizio polemiche solite, poi adesso tutti lo considerano un provvedimento funzionale e lo usano, pensate, ogni giorno 18 mila veneziani, giustamente perché è una signora che deve andare a portare il bambino a scuola, insomma l'abbiamo detto, funziona. Sono cose che però camminano sulle gambe dei pontonieri, del personale della CTV, di quelli che credono che questa città deva tornare a essere viva, per cui sono provvedimenti che non sono irreversibili, non è che hai ottenuto una cosa, devi gestire un servizio. Questo vale anche per lo scavo dei righi, che continuiamo a fare nel silenzio, nel tutto il mondo, nell'indifferenza dei più, ma siamo l'unica amministrazione che ha invertito questa attenzione reale. Se vuoi forse meno narrativa, perché abbiamo pensato a lavorare, avevamo il tema principale era il bilancio, eravamo con due gambe dentro il disastro economico e sociale della città. L'ho detto e lo ripeto, non sto dando colpe a nessuno, è un dato numerico. Avevamo 800 milioni di euro di debito. Immaginatevi il debito pubblico nazionale facendo le doverute proporzioni. Noi l'abbiamo calato, non abbiamo discusso se più 2% o più 2,4. Noi abbiamo calato da 800 milioni, qui le percentuali sono sensibili, oggi sono 740 milioni. Abbiamo calato 60 milioni. Come l'abbiamo fatto? Efficientando il comune. Non abbiamo tolto soldi ai dipendenti, non abbiamo licenziato nessuno. A Venezia i temi arrivano prima e per cui prima di altri li affrontiamo. Ma questo è bello perché diventa un ruolo importante per questa città. Per cui bene le polemiche, bene le discussioni, se sono discussioni di natura operativa che poi portano a un risultato effettivo. E dove sbagliamo? Perché mai il provvedimento non funziona, va migliorato, lo cambiamo e lo miglioriamo. Niente di strano. Chi fa sbaglia, se chi non fa niente non sbaglia mai. Ma hai pensato di candidarsi premier? Non ci penso nemmeno. Io guarda, ho detto che qui c'è un lavoro enorme da fare e l'idea di raccontare che a Venezia funziona e presidiare quello che sto facendo perché si fa un attimo a perdere tutto. Perché abbiamo efficientato, abbiamo fatto cassetta, ma se arriva il partito della spesa, do minuti se finì tutti, perché cominciamo quel paghetti a tutti e ricominciamo. Non è che facciamo gli sforzi. Io mi cambio a restare qui, a continuare a finire bene il lavoro e a trasformare questa città come un esempio, anche un luogo di sperimentazione se serve. Prima città per raccolta differenziata con il recupero porto a porta, la seconda città con il minor tasso di disoccupazione giovalile, il salone nautico che ritorna, il piano di ripopolamento del centro storico. Alcuni dei risultati elencati dal primo cittadino che guarda a Venezia come simbolo per una buona gestio d'Italia, un'Italia federale. Un'Italia federale, quantomeno in qualche modo, adesso si vedranno i provvedimenti, mi trova totalmente d'accordo. È veramente un'idea moderna, che tra l'altro devo dire che la Lega originariamente porta avanti da più di vent'anni, per cui a Cesare quel che è di Cesare. Ma il Movimento 5 Stelle no, però non ci sente molto. Non lo so, adesso vedremo. Io non ho questo tipo di rapporti e io, ripeto, faccio sempre il tifo che si riescano a realizzare i problemi, si riescano a risolvere le cose. Io spero che i cittadini non creiamo paure. Noi non dobbiamo creare paure, ce ne sono già tante. Ricordatevi, quando avete paura, che l'87% delle vostre paure non si realizzerà mai. Per cui, insomma, siate ottimisti e auguriamo a tutti, veramente a tutti, un buon anno nuovo.